Dicono che il calcio moderno è solo business, che per vincere servono i soldi. Dicono che era il gioco più bello del mondo, ma che adesso di miracoli non se ne vedono più. Chi lo dice non conosce ancora questa storia. Qua si mangia pane pallone. C'è una società in vendita, bisogna trovare anche un acquirente serio. Magari ci sono dei problemi, magari. Aiutateci, comprateci, facciamo qualche cosa. Mi freddi vendono, mi sa la disposizione, 400 euro. Uno dei miei obiettivi dall'inizio dell'anno era quello comunque di arrivare più gli occhi. Se uno mi diceva, ma andate in Serie A, io gli dicevo, siete dei pazzi. Una società senza soldi, una squadra senza stipendi, un fallimento che diventa una festa. La storia della squadra che sfiorò il miracolo e della città che se ne innamorò. Se anche per voi la Serie B può diventare un mondiale, se non volete smettere di credere all'impossibile, se avete sentito parlare del priscio ma non sapete cosa sia, questo è il film che aspettavate. Un gruppo di amore, un gruppo di amore, questa Serie A! Grazie a tutti